Serie B-Win, tutti i colori della passione. Per la quarta giornata della Serie B-Win scendono in campo lo stadio Zecchini, Grosseto e Dallas Verona. Positivi gli inizi di stagione per entrambe le squadre. Il Grosseto che torna fra le mura amiche dopo i pareggi esterni con Albino Leffe e Regina. Verona che da matricola ha già pulito Juve Stabia prima e Sassuolo poi. 4-3-3 sia per Ugo Lotti che per Mandorlini. Arbitra il signore Irratti della sezione di Pistoia, alla sua seconda apparizione in Serie B-Win. Primo quarto d'ora in cui il Verona sembra avere l'approccio migliore ed infatti al quattordicesimo passa in vantaggio. Alferson orchestra in mezzo al campo, poi apre per Berrettoni che scende sulla sinistra. Affronta Formiconi, poi mette in mezzo sulla palla di Berrettoni. Si avventa Gomez-Taleb e sigla l'1-0. L'attaccante argentino l'anno scorso 18 gol con la mania del Gubbio in Serie Lega Pro. Rivediamo la discesa ottima di Berrettoni ed il piattone in spaccata dell'attaccante argentino classe 85 Gomez-Taleb. La reazione del Grosseto è piuttosto debole. Qui una punizione di Moretti che non trova lo specchio della porta. E poi Caridi che mette in mezzo trova Sforzini, la cui incornata però è debole. Ma proprio Sforzini al quarantaquattresimo sigla il pareggio. Proteste del Verona per una presunta carica di Sforzini ma quel che conta è l'1-1 dell'attaccante del Grosseto che toglie come al solito le castagne dal fuoco ai ragazzi di Ugolotti. Un pareggio sostanzialmente immeritato per il Grosseto apparso in difficoltà nella prima frazione. Ma nella ripresa gli uomini di casa sono tutt'altra squadra. Mandolini preoccupato ne abbendonde perché al 52esimo crossa Caridi in area di rigore. Poi la difesa del Verona sventa il pericolo. La risposta è di Alferson con il suo mancino. Ci arriva Narciso senza troppi problemi. Ancora Verona su calcio d'angolo. E' Maietta che con un colpo di testa si rende pericoloso. Palla che va a fil di palo. Poi Caridi il migliore nel secondo tempo del Grosseto. Scambia con Sonni. Poi il suo cross non trova nessuno in area di rigore. Si arrabbia Caridi il capitano del Grosseto. Poi è Crimin e è entrato col numero 6 che con un cross mette in difficoltà Raffaele che si rifugia in calcio d'angolo. E' ancora Grosseto poi al 61esimo con la punizione di Bianco. Ancora Raffaele fa buona guardia. Ma è il preludio per un vantaggio che tarderà ad arrivare. Perché poi è il Verona che risponde con Berrettoni, uno dei migliori dei suoi. Per poco non ci arriva Ferrari. Bravo Fornicone a sventare il pericolo. Poi ancora Alfresson che col mancino suo solito prova a trovare il gol. Si lamenta per un calcio d'angolo che non viene accordato dai rati. Ancora Verona sponda di Ferrari. Con D'Alessandro non è entrato che con il destro lambisce il palo. Sfortunato il Verona. Fortunato invece Grosseto che trova il calcio di rigore all'ottantesimo. Ancora Sforzini prova la girata. Poi il sandwich fa sì che Scaglia commetta l'intrazione. E Caridi dal dischetto è molto freddo. E sigla il 2-1 all'ottantesimo per il Grosseto. Il forcing finale del Verona produce questa palla gol per Bielanovic. Anche lui ne è entrato un Verona a trazione anteriore negli ultimi dieci minuti. Però ciò non comporta alcun pericolo serio per Narciso e compagni. Termina 2-1 per il Grosseto che si issa ad otto punti in gradatoria.